Il Vantaggio dell'Ellas Messi alla prova lo siamo stati. Tante le emergenze che ci hanno colpiti in questi ultimi anni fino ad arrivare ad oggi con il Covid-19 che ci ha letteralmente messi in ginocchio. Questo nuovo modo di vivere in posto dell'autorità ha dimostrato quanto importante sia la comunicazione online. Per questo il 29 maggio uscirà con un nuovo prodotto editoriale che aiuterà commercianti ed imprese a rialzarsi e ritornare più forti di prima. Il Veronese Magazine, settimanale di informazioni online gratuito di Verona e provincia, darà la visibilità vera e immediata con costi pubblicitari, contenuti, speciali, abbinate radio e web tv, cronaca, dibattito, politica, eventi e manifestazione di tutta Verona e provincia. Il Veronese Magazine, ripartiamo assieme. Il Veronese Magazine, ripartiamo assieme. Il Veronese Main, ripartiamo assieme. Il Veronese Magazine, quindi ripartiamo assieme. Il Veronese Buzz 중-Quartemizzazione. Grazie a tutti